Questa è una bellissima casa della salute, una delle più belle delle marche, però non si fanno i vaccini, si fanno a Pesaro e a Gradara, noi siamo contenti, però qui è un vaccino di oltre 50.000 persone, soprattutto le persone anziane perché devono andare a fare i vaccini a Pesaro e a Gradara. La riteniamo un'assurdità, io ho scritto sei lettere, l'ultima della quale al Presidente Aquaroli e all'Assessore Saltamartini per dire che in questa Casa della Salute bisogna fare i vaccini, bisogna ripristinare la Guardia Medica e bisogna tenerla aperta il sabato mattino. La regione dialoghi con i medici, trovi la disponibilità dei medici per fare i vaccini qui alla Casa della Salute, che è il luogo dove dovrebbero stare tutti i medici, pediatri, medici di medicina generale e tutta la specialistica, cioè tutto quello che non è ospedale, che quando uno ha necessità è costretto ad andare o anche uno a Pesaro o Urbino, molti dei quali vanno in Emilia Romagna, significa anche dare i servizi qui, evitare che molta gente che va in Emilia Romagna, che costa una barca di quattrini alla regione, significa anche un risparmio. Noi come Comune di Monte Calvo e Foglia siamo di un altro ambito sociale, siamo sull'ambito sociale di Urbino, però siamo confinanti, vicinissimi a Valle Foglia e questa esigenza di avere più punti vaccinali è importantissima per la popolazione. Bisogna in questo momento dove comunque la pandemia sembra risvegliarsi e c'è esigenza e richiesta di punti vaccinali, io penso che sia necessario e urgente aprire questo punto vaccinale che può servire un bel bacino di cittadini, compresi quelli del mio comune. Io sento che il cittadino si lamenta della non possibilità di andare in tempi brevi ad effettuare la vaccinazione e perciò più punti abbiamo che possono coprire il territorio viene bene per tutti, ma anche per contrastare questa pandemia, che abbiamo bisogno di metterci un punto, riprendere la nostra vita normale, abituale, senza problematiche. Per il nostro comune la Guardia Medica è sempre stato un punto di riferimento ed una certezza negli ultimi anni e in questo momento trovarcene sprovvisti è una gravissima mancanza. I cittadini giustamente si chiedono perché la Regione non garantisca loro un servizio che invece era sempre stato presente negli anni precedenti. Quindi la priorità per quello che riguarda gli interventi decisi dalla Regione in questo momento è sicuramente la riapertura della Guardia Medica di Gabice, che è sempre stato un servizio funzionale, apprezzato e un punto di riferimento per la cittadinanza.